Credo sia un'iniziativa molto bella perché comunque può monitorare l'andamento del virus anche all'interno della classe e nella scuola. Non ho avuto esitazione ad accettare questa cosa perché personalmente l'avrei fatto anche a pagamento se ci fosse stato il bisogno per monitorare la situazione. Secondo me è fondamentale avere dei comportamenti sani anche fuori da scuola perché all'interno comunque le misure di sicurezza sono state prese, abbiamo la distanza tra i banchi, anche con i banchi a rotelle, però è fuori da scuola che si crea confusione. Anche durante le vacanze di Natale sono stata in casa, ho evitato anche di vedere amici.